le miso avventure con nico albano stiamo andando a cercare di fare il video per il nuovo pezzo last train abbiamo scelto proprio la giornata migliore per fare questa cosa meno due un po' da gelata nasa gelato tutto gelato chi si sta porrendo ma dove vai ombre forse abbiamo appena immortalato gli ultimi istanti del runner si sarà sul tgr uomo disperso nella nebbia noi l'abbiamo visto per l'ultima volta la destinazione scelta è cascate dell'alta velocità in riva a reno quindi farà ancora più fridola sarà ancora peggio tutto molto peggio e io voglio fare il video non con questo giubino ma con quello dei jeans perché è più carino da meno due di santa cara bolognese siamo arrivati ai tre di bologna c'è anche un accenno di sole allora il video è stato fatto incredibilmente siamo congiati completamente prima c'era un tizio l'osco unico che stava in questo posto fantastico a fare attività mezze maniche e ad ansi mare facendo pressioni a letto in piedi al contrario incredibile incredibile si torna alla base di chito sanita vai sempre si mi 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 mi